Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Avellino via De Concilis, due risse tra ragazzi nel giro di pochi giorni e con qualche ferito. Non sono le gang di New York e niente a che vedere con le bande di delinquenti che si esercitano alla stesa per le vie di Napoli. La chiamano movida violenta e si parla impropriamente di allarme e sicurezza. Il sindaco ha addirittura annunciato un assessore ad hoc, mentre la Lega suggerisce di dare più mezzi ai vigili urbani. Basterebbe altro, basterebbe che i vigili urbani facessero un po' meno gli sceriffi dei divieti di sosta e un po' più i guardiani della movida. Grazie Grazie Grazie